Io direi che le urne sono sempre un elemento di sanificazione, perché vuol dire rispettare al massimo il popolo, dopodiché si vedrà cosa accadrà. Non si sbilancia oltre la storia, la valuteremo quando sarà scritto Chiosa Zaia sulla possibilità di andare al voto dopo la frenetica giornata del Premier Conte, con il dibattito al Senato e le dimissioni annunciate. Ma di certo il governatore Veneto, qualunque siano le sorti del governo, non intende mollare sull'autonomia. Noi andremo comunque tutti i giorni a battere la portona del Palazzo Chigi, direi siamo quelli dei 2.328.020 che hanno votato. L'autonomia resta irrinunciabile e prima o poi qualcuno ce la darà. È inevitabile che andrà a finire così. 11 ragioni l'hanno chiesta assieme a noi, 5 ce l'hanno già, 4 non l'hanno chiesta in Italia. Questi sono i numeri del Paese. Il rapporto con i 5 stelle non è stato facile. Olimpiadi? No alle Olimpiadi. TAV? No alla TAV. Pedemontana? No alla Pedemontana. È un patrimonio di umanità del Prosecco? No al Prosecco. Penso che sia sufficiente per descriverlo. Il Presidente del Veneto parla a margine della conferenza di presentazione sulle novità del bilancio regionale, approvato dalla Giunta con due mesi di anticipo. Abbiamo chiuso la partita, spiegato mettendo in bilancio una previsione pluriannale, 115 milioni in 7 anni per infrastrutture, investimenti e 100 milioni per tutte le garanzie verso il CIO. Zaia inoltre ha parlato della questione dei medici. Nessuna marcia indietro da parte della Regione sulla delibera che prevede l'assunzione di 500 medici non specializzati per i reparti di geriatria, medicina generale e pronto soccorso. Il Governatore Veneto resta fermo su questo punto. Non sono i Veneti preoccupati ma qualcun altro. Noi sappiamo che abbiamo un deficit di medici, abbiamo la possibilità di assumerne 500 rispettando la legge, sono medici che ci sono laureati e sono abilitati. Ovviamente manca la scuola di specialità ma non andranno a fare gli specialisti, andranno ovviamente nei pronto soccorso, nelle geriatrie e nelle medicine generali. Quindi rispettiamo la formazione universitaria e crediamo nell'università. Non mettiamo in discussione la formazione universitaria, però è pur vero che qualcuno dovrà dirci se un medico laureato con un anno di abilitazione può avvicinarsi un paziente oppure no, perché a questo punto mi viene anche questo dubbio.